Oggi sono venuto a incontrare degli amici che vivono al mare, che vivono al mare 365 giorni all'anno, forse da qualche migliaio se non addirittura milioni di anni. Sono le piante della duna, a partire da questo bellissimo e delicato eringio marito. L'eringio marino ha foglie spinose e ha una fioritura particolare che attira moltissimo gli insetti, insetti che frequentano questo ambiente così difficile, costiero. Questo invece è il profumatissimo finocchio di mare, che forma questi grandi cuscini verdi. Anche questa è una pianta adattata a utilizzare come fonte idrica, è praticamente la nebbiolina, la brezza marina che porta un po' di umidità dal mare. E queste piante devono affrontare adesso il periodo più difficile della loro esistenza, quello in cui gli uomini vanno al mare, vanno al mare e naturalmente per godere di queste giornate piantano ombrelloni, mettono sedie, stendono teli, tolgono quelle che pensano siano erbacce, invece sono le piante più belle in assoluto, quelle che sfidano ogni elemento della natura avverso per regalarci queste fioriture magnifiche. Questo è il papavolo delle donne, sicuramente è un campione, un campione di bellezza, di sopravvivenza in questi ambienti difficili. Teniamolo presente, insegniamolo a tutte le persone che frequentano gli ambienti costieri che questo è un periodo difficile per queste piante e dobbiamo aiutarle a sopravvivere.